cari amici buona giornata continuiamo a chiedere il dono dello spirito santo oggi è festa di san filippo neri e preghiamo lo spirito perché infiami anche il nostro cuore come ha infiammato il cuore di questo grande santo ascoltiamo oggi un testo del vangelo di giovanni capitolo 17 ricordiamo che gesù durante l'ultima cena dopo il gesto di lavare i piedi ha parlato a lungo con i discepoli questo discorso che gesù tiene occupa nel vangelo di giovanni ben quattro capitoli 13 14 15 e 16 e questo lungo discorso si chiude con una preghiera che adesso ascoltiamo e che è appunto raccontata nel capitolo 17 quel tempo gesù alzati gli occhi al cielo disse padre è venuto allora glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te tu gli hai dato potere su ogni essere umano perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato questa è la vita eterna che conoscono te l'unico vero dio e colui che hai mandato gesù cristo io ti ho glorificato sulla terra compiendo l'opera che mi hai dato da fare e ora padre glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse ho manifestato il tuo nome gli uomini che mi hai dato dal mondo erano tuoi e li hai dati a me ed essi hanno osservato la tua parola ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato io prego per loro non prego per il mondo ma per coloro che tu mi hai dato perché sono tuoi tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie e io sono glorificato in loro io non sono più nel mondo essi invece sono nel mondo e io vengo a te gesù alza gli occhi al cielo come aveva fatto davanti alla tomba di lazzaro il movimento degli occhi descrive il segreto della vita intima di gesù vive sulla terra è legato alle persone e alle circostanze ma tutto affronta in costante relazione di amore di fiducia con il padre e la parola padre è la prima parola della preghiera è la verità della preghiera gesù prega proprio perché dio è padre ogni parola ogni azione di gesù è nata da questa relazione ed è per questo che anche insegna ai discepoli a pregare chiedete vi sarà dato perché dio è padre è il padre che gli ha dato i discepoli è il padre che gli ha dato l'opera da compiere tutto ciò che ha che ha compiuto è originato dal padre al padre dice è giunta l'ora gesù aveva riconosciuto l'avvenuto dell'ora dopo la sua entrata solenne a gerusalemme anche in quell'occasione aveva pregato il padre aveva pregato perché il padre lo liberasse dall'ora perché l'ora ha un aspetto anche tragico ma poi aveva aggiunto nella preghiera ma sono giunto per compiere quest'ora per portare fino al suo compimento quest'ora e anche prima di lavare i piedi dei discepoli l'evangelista giovanni aveva detto era è giunta l'ora e aveva anche precisato che dire che l'ora è raggiunto voleva dire che era giunto il momento del passaggio di gesù al padre è raggiunto il momento per gesù di portare fino alla fine l'amore verso il padre e verso gli discepoli questa è l'ora l'ora del passaggio al padre l'ora del compimento dell'amore e che cosa chiede gesù nella preghiera chiede padre glorifica il figlio perché il figlio glorifichi te dunque un duplice movimento di gloria innanzitutto gesù chiede al padre che gli dia gloria la gloria che il padre dà al figlio è la gloria di che il figlio in realtà ha dal inizio del mondo in quanto verbo è presso il padre prima che il mondo fosse dunque il figlio partecipa della gloria cioè della vita divina di gesù di dio fin dall'inizio della creazione perché da sempre appartiene alla vita di dio ora però quando chiede glorificami che cosa chiede chiede che questa condizione sia partecipata alla sua carne che è assunto con la sua venuta nel mondo questa è la novità grandiosa che gesù chiede che l'umanità che ha assunto entri nella vita intima di dio partecipi della gloria cioè della stessa dignità della stessa pienezza della stessa intensità di amore che è la vita di dio l'umanità entra in dio l'umanità di gesù entra in dio questa è la gloria che gesù chiede al padre ma gesù chiede anche che sia portata a compimento quell'opera di glorificazione che lui ha svolto nel mondo qual è la gloria che Gesù ha svelato al mondo ha svelato ai discepoli a quelli che il padre gli ha consegnato le espressioni che gesù usa per descrivere la gloria che ha operato e ha svelato nel mondo sono queste ho dato la vita eterna a coloro che tu padre mi hai affidato ho compiuto l'opera che tu padre mi hai affidato ho manifestato il tuo nome ho dato ai discepoli a quelli che tu mi hai dato le parole che tu mi hai rivelato io le ho date anche a loro dunque la gloria che gesù ha manifestato la gloria con cui gesù ha dato gloria ripeto la parola gloria al padre è stato quello di attirare i discepoli nella vita eterna rivelando il suo volto di padre rivelando l'amore di dio rivelando il destino che ogni uomo ha quello di essere chiamato a partecipare alla vita di figlio entrare nella vita eterna ecco io credo che questo sia un punto su cui possiamo meditare gesù rivela che la gioia più profonda la realizzazione più grande della sua vita è che l'umanità finalmente entri nella vita di dio la sua come figlio ma per attrazione anche tutti coloro che hanno accolto la sua parola ecco in questa preghiera che gesù fa riconosciamo la grandezza del nostro destino destino glorioso quello di partecipare alla vita stessa di dio e non sono parole che descrivono una realtà astratta pensiamo a san filippo neri questo santo che oggi ricordiamo che inciso profondamente nella storia della sua epoca che ha fatto come contagiare di gioia tante persone nel nome di gesù lo si vedeva così si racconta nella sua vita passeggiare per strada gettando in aria il cappello gridando paradiso paradiso e cioè questa prospettiva della vita eterna questa gloria che ci è promessa realmente cambia la vita la determina in maniera positiva pensiamo la prima grande espressione una grande espressione poetica di san francesco che a san leo ha fatto una predica è salito sul muretto e ha detto quella famosa frase è tanto il bene che io mi aspetto che ogni pena mi è diletto la prospettiva della vita eterna realmente trasforma la vita in onda di una gloria chiediamo al signore che prega per noi prego per loro dice non prega per il mondo non tanto perché gesù non abbia a cuore la sorte di tutti dio padre vuole la salvezza di tutti ha mandato il figlio ha tanto amato il mondo da dare il figlio e gesù quando sarà inertato sulla croce attirerà tutti ma in questa preghiera prega per la comunità prega per quelli che hanno accolto la sua parola perché questa prospettiva di gloria questa prospettiva di vita eterna questa prospettiva che si apre per chi conserva le sue parole diventi luce per tutti e la comunità diventi una comunità significativa crediamo e preghiamo perché realmente la nostra comunità di credenti testimoni la passione per la vita eterna per il bene che ci aspetta per questa gloria che già trasforma il presente perché lo apre a questa prospettiva del futuro